Pensi a Palermo e pensi a Leoluca Orlando. Il sindaco uscente è candidato al suo quinto mandato di primo cittadino del capoluogo siciliano. Eletto la prima volta nel 1985, 17 degli ultimi 34 anni, li ha vissuti seduto sulla poltrona più alta di Palazzo delle Aquile, assistendo da protagonista i cambiamenti che hanno coinvolto la città negli ultimi tre decenni. Ma come immagina oggi Leoluca Orlando la sua Palermo del futuro? La immagina una Palermo che si è lasciata alle spalle il tempo in cui era e ci vergognavamo di essere palermitani, capitale della mafia, oggi è capitale della cultura, sede di manifesta, quarta città turistica d'Italia. Un tempo a Palermo venivano soltanto giornalisti per fare inchieste di mafia, adesso siamo la quarta città turistica d'Italia. Una città che si sta fondamente innovando grazie all'impegno di tanti giovani che hanno capito che non bisogna chiedere lavoro, ma creare lavoro per sé e per gli altri, grazie alla straordinaria anello telematico, alla banda larga, grazie alla pedronalizzazione, grazie alla mobilità sostenibile, grazie alle quattro linee di tram a cui segureranno altre tre che sono in corso di realizzazione. Sceso in campo senza simboli di partito, Leo Luca Orlando ha messo il suo nome al servizio di una nuova concezione di fare politica. Si sta vivendo appena una straordinaria esperienza di civismo politico, di un civismo politico che è alternativo al civismo ribellista che non sa amministrare e che non amministra, ma anche a quella politica fatta di partiti chiusi in se stessi che non sanno dialogare e ascoltare. Oltre che politico, quello di Palermo è un confronto generazionale con i principali avversari, Ugo Forello del Movimento 5 Stelle e Fabrizio Ferrandelli, sostenuto dalla coalizione del centrodestra. L'essere giovani non è necessariamente una condizione positiva, conosco giovani barbari e conosco anche anziani che sono innovatori.